Il primo giorno Stefano Cucchi ha chiesto di parlare con un avvocato, è morto senza essere riuscito a parlare con un avvocato. Com'è possibile che succeda una cosa del genere? Temo che succeda perché ci sono delle persone che quando vengono arrestate e fermate non sono ritenute portatrici di diritti, ma un po' scarti della società, il drogato, l'immigrato e quindi da quel momento sono nelle mani di qualcuno che non riconosce in quella persona un portatore di diritti. Credo che sia avvenuto proprio questo. Che Stato è quello Stato che arresta un ragazzo e poi sotto la sua tutela questo ragazzo viene restituito cadavere alla sua famiglia dopo otto giorni? Non è uno Stato di diritto, non è uno Stato costituzionale di diritto, al centro del quale è la persona. Questo è il termometro di uno Stato che a che punto sta? Non vorrei essere pessimista. Se c'è una capacità di reazione, di accertamento immediato delle responsabilità effettive, di sanzioni non vendetta, ma accertamento, ripeto, di responsabilità, forse possiamo non essere troppo pessimisti sul futuro. Altrimenti? Altrimenti la regressione culturale e civile ci avvolge e purtroppo dobbiamo attenderci altri casi come questo.